Una coppia di fidanzatini va a fare una vacanza in un paesino sperduto dell'Italia, soltanto chi ha i due, dopo una settimana di permanenza in questo paesino, prende una voglia fortissima di sposarsi, tanto che vanno presso la parrocchia del paese, contattano il sacerdote del paese e gli dicono salve padre, noi avremo deciso di sposarci qui nel vostro paese, nella vostra chiesa e il padre saremo ben felici di celebrare il vostro matrimonio figlioli e il fidanzato senta padre ma dobbiamo fare un'offerta per sposarci qui da voi e il sacerdote beh qui in questo paese noi abbiamo un'usanza molto antica, chi vuole sposarsi da noi deve fare un'offerta che è misurata alla bellezza della sposa, chiaramente più la sposa è bella e più l'offerta è alta, allora il fidanzato si guarda alla ragazza e vabbè, insomma si tira fuori 10 euro e gli mette sulla scrivania del sacerdote, il sacerdote si guarda 10 euro prende 10 euro e si inizia a allontanare, allora il fidanzato gli fa padre ma dove sta andando il sacerdote è una piaresta, massa che ragno, figlio del dio